Buonasera a tutti, il mio ruolo questa sera vorrebbe essere quello di proporre dei temi, proporre degli argomenti e poi appunto invitare Maria Cristina Ecoresi e Jean-Lenar Toadie ad approfondirli, a dire la loro e senz'altro anche il pubblico a intervenire dopo di loro, a intervenire o a porre eventualmente domande. Il tema che abbiamo deciso di dare a questa serata è l'Africa che cambia e non è un titolo scontato perché questo continente a noi peraltro geograficamente così vicino siamo forse abituati pigramente a considerarlo un insieme immutabile, spesso associamo all'Africa il concetto di arretratezza, di mancato sviluppo o di sottosviluppo e quindi tendiamo forse a impigrirci su questa immagine, mentre negli ultimi tempi i media internazionali, non dico quelli italiani che sono spesso anche troppo distratti nei confronti di questo continente, ma sicuramente i media internazionali parlano e riferiscono e descrivono un cambiamento che ha vari aspetti, che ha varie dimensioni di questo grandissimo continente che se non altro geograficamente è il secondo per estensione sul nostro pianeta dopo l'Asia. Voi tutti sicuramente ricorderete il detto attribuito a Plinio il vecchio dall'Africa, sempre qualcosa di nuovo, è un detto che i latini citavano e che i nostri studiosi della classicità spesso hanno citato, quel motto peraltro, quella frase che è appunto contenuta nella storia naturale di Plinio il vecchio, me lo sono andato a riguardare preparando le poche cose che volevo dire qui stasera, non che io abbia la storia naturale di Plinio il vecchio sul mio comodino, ma semplicemente sono andato a guardare wiki quote e Plinio lo cita dicendo che questo lo chiama dictum vulgare della Grecia, cioè è un detto diffuso, è una cosa che dice il popolo, che dice la gente in Grecia, quindi lui lo riferisce soltanto e ci dice che per gli antichi era quindi un luogo comune dire che dall'Africa veniva sempre qualcosa di nuovo. Ecco, questo modo di dire potremmo forse oggi ritrovarlo di nuova attualità e ci sono novità sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico che in qualche maniera stanno rivoluzionando l'immagine che di questo continente o lo stereotipo che di questo continente si ha. Prima di elencarli brevemente io però vorrei fare due premesse che penso siano doverose e potrebbero anche sgombrare il campo della nostra discussione da alcuni equivoci, alcuni luoghi comuni. Il primo sul quale penso sì a Jean-Leonard che Cristiano e Colessi saranno d'accordo e più volte credo anche di averglielo sentito dire in particolare a Jean-Leonard che l'Africa diciamo in un certo senso non esiste. È un insieme così vasto, così enorme e al suo interno così variegato che è sempre molto pericoloso diciamo generalizzare. Quando io ho cominciato a occuparmi di vicende africane un buon trentennio fa, all'epoca abbastanza giovane giornalista, tra i libri che io ho preso in mano per alfabetizzarmi, per imparare qualcosa sull'Africa, c'era il famoso libro del giornalista francese Hervé Bourges, Le 50 Afrique. Grande figura, amico degli algerini, ma adesso non è per parlare di Bourges, è per dire che già allora, quindi alla fine di questo libro credo che sia del 1978, diciamo questo conoscitore dell'Africa si premurava di mettere in guardia il lettore dalle generalizzazioni e diceva in fondo che ognuno dei paesi all'epoca indipendenti faceva parte a sé. Sono passati trent'anni, quelle 50 Afri che sono diventate oggi forse 53 o 54 e credo che è tanto più vero sia tener conto di questa messa in guardia tra un marocchino o un egiziano, un cittadino che so io della Guinea equatoriale, sicuramente non c'è meno differenza di costumi, di stile di vita, di reddito, di prospettive d'avvenire che c'è non so tra un groenlandese e un palermitano. Ecco, quindi il primo invito è quello a diffidare, diciamo, dalle generalizzazioni. La seconda premessa, alla quale io personalmente tengo molto, è di evitare, diciamo, di cercare di tenere la mente attenta, ad evitare di cadere nello stereotipo dell'Africa arcaica, dell'Africa arretrata, dell'Africa, come si sente molto dire dai viaggiatori in vari paesi africani, che è, diciamo, come eravamo noi dieci anni fa, vent'anni fa, cent'anni fa. E credo invece che bisogna considerare sempre, anche nelle sue arretratezze, l'Africa nostra contemporanea e questo è tanto più vero, penso oggi, in un momento in cui, come si è visto, per esempio nelle rivolte arabe, a cui accenderò anche fra poco, i mezzi di comunicazione hanno dato una immediatezza e una vicinanza e ne hanno fatto dei suoi abitanti, dei cittadini, del mondo e dell'oggi, come credo mai prima. Io non ho seguito personalmente come inviato le rivolte arabe, sono stato però a Tripoli dopo, diciamo, la sconfitta nei mesi successivi, diciamo, alla fine dell'anno passato e sono rimasto veramente allibito da quello che avevo già letto, cioè dalla diffusione di Facebook tra i giovani tripolini, non sono andato fuori dalla città, quindi sicuramente il fenomeno è urbano, non solo dalla diffusione, dall'uso costante, dall'ossessione quasi, che hanno queste generazioni studentesche, universitarie, di aprire, non appena possono sedersi, aprire il loro computer e connettersi a internet con un wifi, che si trova abbastanza a Tripoli, nei locali, negli alberghi, direi non meno che in molti città italiane sappiamo che siamo un po' indietro su questo, e di connettersi e di dialogare su Facebook, ma anche la consapevolezza che questi ragazzi avevano dell'importanza di questo strumento nel loro modo, per esempio, di opporsi al potere. Mi dicevano un ragazzo, uno studente di belle arti, noi non saremo mai come la generazione che ci ha preceduto, noi siamo diversi in questo, che a noi non ce la possono raccontare. Ai vecchi, ai nostri padri, gliel'hanno raccontata per decenni, a noi qualunque cosa ci dica un primo ministro, qualunque cosa ci dica un presidente, tempo, dieci minuti, noi possiamo sapere se quello che lui ci ha detto è vero o è una balla, perché immediatamente noi abbiamo a disposizione un circuito in cui poi la verità viene fuori. Ecco, questo, diciamo, l'ho sentito dalla via voce di questo ragazzo, quello che già avevo letto in tanti articoli, in tanti resoconti, dell'importanza di questi mezzi di comunicazione che fanno oggi dell'Africa quanto mai, diciamo, un oggi e non un ieri di quello che sta accadendo nel mondo. Vengo adesso, diciamo, brevemente a questi punti di novità che, secondo me, dipingono un quadro davvero di grande movimento per l'insieme di questo continente di circa mezzo miliardo di persone, anzi oggi robustamente al di là del mezzo miliardo, e proiettato verso un ulteriore grande boom demografico e questo è, tra l'altro, uno degli elementi di novità. Il peso relativo che la popolazione dell'Africa è destinata ad avere di qui alla metà del nostro secolo e anche, diciamo, 2050-2060, è, diciamo, l'aumento è notevolissimo perché parallelamente, invece, rallenta il boom demografico dell'Asia indotto dal crescente benessere dei maggiori, più vasti, più popolosi paesi di quel continente, in particolare la Cina, in particolare l'India, come già è accaduto nell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, l'aumento del benessere materiale, dello stile di vita industriale e metropolitano, fa ridurre la natalità. Quindi la popolosissima Cina, la popolosissima India stanno rallentando, mentre in Africa il boom demografico non conosce sosta, continua molto forte e quindi la quantità relativa di africani sull'insieme della popolazione mondiale è destinata, nei prossimi decenni, a crescere molto sensibilmente passando, credo, da circa un terzo a circa un quarto e più della popolazione mondiale. Quindi noi vivremo in un mondo dove ci saranno sempre più africani rispetto, diciamo, ai non africani. E questo è sicuramente uno dei tre, diciamo, uno degli aspetti portatori di novità, anche perché si tratta di una umanità giovanissima. leggevo in un articolo che, appunto, nel 2060, forse già adesso, diciamo, nel 2025, ecco il dato che ho trovato, sui meno di 24 anni, tutti gli umani che avranno meno di 24 anni, diciamo, di qui a una decina d'anni, un quarto saranno africani. Le novità sono sicuramente di due, diciamo, appartengono a due grandi categorie. La prima sono novità di natura politica, novità di natura economica. Le novità di natura politica sicuramente sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo conosciuto un 2011 di fortissimo rinnovamento politico nell'Africa settentrionale tutte quelle rivoluzioni che sono andate sotto il nome di Primavera Araba. Come sappiamo, questo fenomeno è molto variegato, il suo bilancio è molto in chiaroscuro, l'entusiasmo che ha accolto l'esplosione di queste rivolte sociali e la cacciata di regimi antidemocratici si è poi temperato fortemente, specie in quei paesi come l'Egitto dove è sembrato un po' che si confermasse il detto di Tomasi di Lampedusa che tutto doveva cambiare perché nulla cambiasse, è cambiato il regime, ma nella figura dei latifondisti del Gattopardo ci sono le forze armate, come sapete c'è una fortissima continuità, il potere reale in quel paese è detenuto dai vertici delle forze armate che controllano peraltro amplissimi settori economici, e quindi c'è una sostanziale continuità ancora. Però, diciamo, la società non si è placata e non si è accontenta di questo status quo. Sapete tutti che cosa è accaduto in Tunisia prima dell'Egitto, la rivolta libica successiva, ciascuna, diciamo, diversa per suo modo, ma sicuramente c'è stata una grande ventata democratica che ha coinvolto tutto il Nord Africa attraverso l'anno che si è chiuso qualche mese fa. Sicuramente questo esempio ha teso, diciamo, a diffondersi da est a ovest orizzontalmente, anziché verticalmente, nel senso non è penetrato, perlomeno non è penetrato fino adesso, diciamo, a sud del Sahara, è rimasto un fenomeno arabo, anzi ha coinvolto paesi arabi non africani, come lo Yemen, come la Siria, sapete bene che oggi è in Siria che la questione è posta nella maniera più drammatica, più sanguinosa, ma questo non significa che la lezione delle masse, delle gioventù libica, egiziana, tunisina, non sia stata raccolta a sud del Sahara. Anzi, i primi tentativi di imitarli sono stati repressi molto duramente, in paesi come il Malawi ci sono state manifestazioni che hanno, si sono saldate con bilanci molto gravi, decine di morti nelle piazze, è successo qualcosa di simile in Uganda, in paesi dove, diciamo, i regimi temono e sentono serpeggiare il desiderio, soprattutto tra i giovani delle maggiori città, il desiderio di imitare l'esempio dei paesi del Nord Africa. Penso che questo processo non sia assolutamente concluso e penso che dal resto dell'Africa potremmo avere presto notizie, diciamo, di nuove rivolte democratiche, specie contro quei regimi, quei presidenti che si eternizzano al potere ottenendo successive rielezioni attraverso consultazioni molto dubbie dal punto di vista democratico, talora forzando riforme costituzionali che li rendono rieleggibili all'infinito e così via. Quindi questo prima di tutto sul piano politico. Sul piano economico è stato celebrato dalla stampa internazionale il vero e proprio boom che le economie africane hanno avuto nel 2011 e che si annuncia confermato e anzi ha cresciuto nel 2012. Non è da ieri che qui e là alcuni paesi stanno attivamente uscendo da un retaggio di povertà di sottosviluppo però questo fenomeno si sta diffondendo ed è diventato al momento un fenomeno macroeconomico cioè che si può misurare su scala continentale. C'è un paese in particolare il Ghana che fa registrare tassi di crescita del proprio prodotto interno lordo molto alti più alti per esempio nel 2011 della Cina. Il Ghana mi pare sia intorno al 13% la Cina si è fermata nel 2011 poco sotto il 10%. Le stime per il 2012 parlano di circa un 6% per l'insieme del continente e visto da un continente come il nostro che è quasi tutto diciamo stagnante o come il nostro paese in recessione e visto anche dall'Asia un paese che come sapete ha conosciuto un boom fortissimo ma che in questo momento vede questo boom rallentare relativamente ecco invece la performance africana è sicuramente impressionante ed è tuttora in crescita. I più ottimisti credono di vedere in questa impetuosa crescita dell'economia africana o meglio dovremmo dire dei prodotti interni lordi dell'Africa e cercherò di spiegare questa distinzione forse l'avvio di una definitiva uscita della maggioranza degli africani da quel circolo vizioso di povertà e di sottosviluppo che ha riguardato fino adesso la maggior parte degli abitanti del continente perché ho distinto fra prodotti interno lordo e diciamo ricchezza diffusa o reddito perché appunto ci sono dei meccanismi distorti che per adesso favoriscono queste performance così impressionanti che potrebbero cessare o potrebbero comunque non tradursi in ricchezza diffusa il primo motivo è che gran parte di queste performance dipende dal favorevolissimo corso delle materie prime quelle che gli economisti chiamano le commodities a cominciare dal petrolio ma anche altre risorse minerali quindi diciamo questo è legato al fabbisogno mondiale in particolare del petrolio di cui noi italiani anche conosciamo un po' le conseguenze attraverso il momento del prezzo della benzina ma sicuramente il corso del petrolio è tenuto molto è tenuto alto dal fabbisogno inesauribile delle industrializzazioni asiatiche ma anche questo non è detto che sia qualcosa che continua all'infinito per il momento sta portando ad alcuni paesi un benessere subitaneo e fortissimo soprattutto diciamo per un ceto che si arricchisce nelle città ma che non diventa ricchezza diffusa nelle campagne Maria Cristina Ercolessi in particolare ha studiato diciamo recentemente l'Angola e l'Angola che peraltro è uscita all'inizio di questo secolo da 25 anni di guerra civile è proprio forse l'esempio più eclatante della metamorfosi la sua capitale Luanda era una città di rovine dove la gente frugava nelle immondizie ancora negli anni 90 del secolo scorso per provvedere la sua sussistenza oggi Luanda è una città impressionante dove c'è una densità di SUV forse maggiore che nel nord-est è l'Italia con un ceto di nuovi ricchi che non ha nulla da invidiare ai più affluenti dei californiani ma anche con fortissime diseguaglianze è anche la città più cara del mondo secondo gli ulli rilevamenti del 2011 almeno per gli espatriati cioè un tempo era Hong Kong oggi è Luanda in Africa ecco quindi questo sviluppo legato al corso delle materie prime uno sviluppo che è anche frenato inibito da una corruzione assai diffusa è uno sviluppo che non diciamo si basa quella anche su un'industria di trasformazione ma che non diventa ancora a differenza ad esempio di quello che succede in India o in Cina un aumento diffuso dei beni di consumo o la crescita ecco di un benessere di un ceto medio che diventa sempre più numeroso e sempre più forte il ceto medio c'è ma è sempre alla mercè di un dittatore sempre alla mercè di una volontà non democratica di chi li governa e anche diciamo di un'economia che è tuttora molto fragile come vedete forse io sto adesso cadendo un po' nell'errore che dal quale ho messo in guardia all'inizio cioè sto facendo delle generalizzazioni ma sicuramente diciamo le macro statistiche sulla crescita del prodotto interno lord africano in parte ce lo consentono ecco i giornali economici festeggiano questo stato di cose ho letto anche con grandissima soddisfazione per esempio sull'economist alcuni mesi fa il settimanale economico britannico che la persona dalla pelle nera più ricca del mondo cioè la persona afro più ricca del mondo non è più opera Winfrey la celeberrima presentatrice e conduttrice di dolceo americano ma è un industriale del cemento nigeriano il cui patrimonio di 10 miliardi di dollari appunto supera quello di opera si chiama Aliko Dangote e appunto è l'africano diciamo è l'uomo dalla pelle nera più ricco del mondo se questo diciamo basti a renderci ottimisti e fiduciosi sull'Africa che verrà forse ce lo possono dire meglio Jean-Leonard e Maria Cristina Alcolessi grazie applausi 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 se vuoi tu sì io sono riprendo alcuni dei temi già sollevati da Pietro cominciando forse con osservazioni di questo tipo io sono anch'io molto d'accordo sul fatto che è difficile generalizzare anch'io potrei citare sono un sacco di libri che sono l'esafrica politica tutta plurale ormai c'è solo le Afriche noi abbiamo una rivista a Bologna che si chiama Afriche e Orienti da molto tempo eccetera è anche vero però che ci sono alcuni elementi generalizzabili per questo che cadiamo poi sempre nel fatto che continuiamo in qualche modo a generalizzare e secondo me questi elementi di generalizzazione derivano su questo però non voglio poi fermarmi derivano in parte dalla storia se c'è un elemento comune che fa l'Africa è stato probabilmente il dominio coloniale che tutta l'Africa l'ha sofferto e questo è evidentemente un fattore storico che tiene insieme l'Africa e tiene insieme anche le sue politiche non so se penso alle teorie panafricaniste che stanno ritornando molto negli ultimi tempi ovviamente l'idea di una qualche unità continentale di una qualche e questo fosse il secondo elemento di qualche posizione dell'Africa per esempio nel sistema internazionale rispetto al resto del mondo a parte questo io vorrei soffermarvi su un elemento che appunto è un po' generalizzante perché poi non riusciamo a fare diversamente perché sarebbe troppo lungo troppo complicato entrare nei casi singoli provando a dire questa cosa io la mia impressione sto veramente ragionando a voce alta è che noi siamo in una situazione in Africa che come dire è post tutto cioè post coloniale questo ormai lo sappiamo da molto tempo è post apartheid cosa su quale secondo me si riflette poco è post apartheid almeno 20 anni però quello che ha significato la fine di un sistema come l'apartheid il rientro per esempio del Sudafrica nel sistema africano nel continente in termini politici secondo me non è ancora stato del tutto considerato o completamente analizzato soprattutto se lo mettiamo insieme al fatto che è successo in contemporanea praticamente alla fine della guerra fredda e alla globalizzazione questo oriento del Sudafrica quindi un post appartene nel senso post fine di regimi bianchi che ancora continuavano a condizionare l'Africa e direi forse anche a questo punto un post immagino diceva bene Pietro un post immagino Africa retrata Africa continualmente in sottosviluppo Africa continente perso Africa continente alla deriva Africa afro pessimista come si usava a dire qualche anno fa siamo un po' post tutto e non vorrei so parafrasare D'Alema io qualche volta la sensazione per chi come viene da un avvicinamento all'Africa che è passato ovviamente anche attraverso lo studio delle lotte di liberazione dei movimenti per l'indipendenza Nelson Mandela liberazione di Mandela cose di questo tipo mi trovo di fronte a un'Africa che io per la prima volta sento scusatemi il termine normale forse quello che sta arrivando è per così la normalità cioè una situazione che noi dobbiamo analizzare in termini comparativi se volete con altre parti del mondo in modo il termine è bruttissima ma spero che sia chiaro quello che voglio dire diciamo normale quella situazione è normale non è più una situazione coloniale non è più una situazione sottoposta all'apartheid non è più neanche il terreno diciamo di una guerra fredda come c'è stata negli anni 80 e così via e anche dal punto di vista dello sviluppo è così e dal punto di vista dell'evoluzione politica è così allora io su questo vorrei provare a riprendere alcuni temi di Pietro e provare a metterli insieme partendo anch'io dalla questione della primavera araba cioè una delle domande che si sono poste l'anno scorso è stata ci sarà una primavera africana dopo una primavera araba giornali interi hanno sollevato questa questione pubblicazioni telematiche africane l'hanno sollevata editoriali l'hanno sollevata seminari all'università l'hanno sottolineata io una delle risposte che ho provato a dare questa domanda che vorrei riproporvi è in Africa c'è già stata ce la siamo dimenticata in Africa la primavera c'è già stata tra la fine degli anni 80 ai primi anni 90 c'è stata una grandissima ondata di democratizzazione formale con anche grandissime manifestazioni di piazza cioè forme di proteste di contestazione sociale e a me pare di contestazione sociale grazie a tutti grazie a tutti